È stato un bellissimo discorso. Volevo sentire anche un attimo Maria Rita, perché io l'ho visto veramente molto emozionato, molto commosso, ho provato e proprio con l'idea di voler trasferire quello che ha vissuto, no? Un po'. Beh, questa è la gloria degli anziani, la vecchiaia adolescente. Cioè il coraggio di trasferire tutto quello che tu hai incamerato e nel momento in cui ti misuri veramente con un pericolo mortale, perché è veramente stato... Allora a quel punto è come se la vita ti permettesse di vedere tante cose, di saltare passaggi mediocri, superficialità e andare al cuore delle cose e dire quello che può servire per lasciare una traccia umana. Berlusconi è sempre stato, al suo modo, ognuno può pensare come vuole su Berlusconi. Berlusconi è una persona che ha lasciato una traccia. Io ricordo mio padre, che adorava Almirante, ogni volta che c'erano le... io ero ragazzina, ragazzetta, vedevamo le trasmissioni televisive e c'erano naturalmente l'Amae. Quando è morto Berlinguer, mio padre ha detto, vado al funerale, perché è morto un uomo per bene. E questa cosa mi è molto emozionata, perché io facevamo degli scontri ferocissimi, immaginati lui, mia madre, terziaria francescana. Era un momento... ecco, quello mi è piaciuto molto, perché in un momento in cui tu, al cuore delle cose, di fronte alla più grande angoscia, che è l'angoscia di morte, la madre di tutte le angosce umane, ti misuri con la tua vita, lì c'è il momento che si vede la qualità delle persone. Voglio andare un attimo.